Giovedì 13 dicembre si è svolta la finale di X Factor 12. A trionfare è stato Anastasio, rapper di Meta di Sorrento che, in tutto il suo percorso, ha impreziosito le sue interpretazioni con rime inedite. Si è trattata di una vittoria attesa dai molti le sue ultime performance avevano lasciato senza parole giudici e pubblico da casa. Il suo inedito La Fine del Mondo è attualmente tra i più ascoltati del momento in Italia e ha già raggiunto la certificazione oro.seconda classificata Naomi, del team di Fedez. L'artista ha portato avanti un percorso davvero incredibile, cambiando attitudine sul palco e, soprattutto, repertorio. Un ottimo lavoro di Fedez e della sua squadra che ha saputo rispettare le sue peculiarità, ma alzando poco per volta l'asticella. Terzo posto per l'una del team di Manuel Agnelli al suo ultimo anno in giuria a X Factor e Quarty Bowland della squadra di Lodo Guenzi.Quella di giovedì sera è stata una grandissima occasione per i ragazzi che, tra le altre cose, hanno potuto presentare un loro inedito e realizzare un videoclip ufficiale.inutile dire che tutti questi video sono già in tendenza su YouTube. Guardali qui.i videoclip ufficiali degli inediti dei quattro finalisti di X Factor 12 Luna, Los Angeles Anastasio, La Fine del Mondo Bowland, Don't Stop Me Naomi, Like They're Inupredictable.